Ciao a tutti ragazzi, sono Gmet e bentornati su Terraria, finalmente dopo troppo tempo. Come potete vedere ho costruito delle casettine, volevo far spawnare anche gli NPC della mod e infatti ne sono spawnati ben tre, ora ve li mostro. Sono questa arciere che si chiama Jack, ci vende una balestra, un Archer Glove che aumenta il Ranger Damage e le Wooden Arrow che però ce le vendeva già Edmund il mercante. Poi abbiamo un Knight, un Cavaliere che ci vende questa Riper Knife che è molto interessante, anzi la compro per mostrarvela. Come potete vedere è una spada molto veloce, però attacca solo in orizzontale così purtroppo. E fa solamente sette di danno ed è uscita Demonic. Va bene. Ok. Perché mi escono tutte le armi Demonic che non mi interessano. Poi vabbè vende altre due cose che non ci interessano. Andiamo dall'elfo che ha il cappellino buggato. Ok. No, no, questo non è l'elfo. Non vende esplosivi l'elfo. E comunque ha dei seri problemi mentali perché fa avanti e indietro. Ecco. Oh mio Dio. Comunque vende ancora. Togliti da mezzo. Togliti. Ok, va bene. Non ci vuole... Ok. Finalmente. E si chiama Elfi. Avete fatto del vostro meglio. Fantasia level over 9000. Comunque ci vende una Candy Cane che fa 14 danno melee. Poi ci vende altre cose strane di Natale che non ci interessano. Probabilmente non ho aggiornato la mod. Poi provvederò a farlo. Non sono spawnati altri NPC che non conosciamo. Come potete vedere ho disposto tutte le casse che avevo nelle platform per non occupare troppo spazio. Ho disposto così anche le crafting station che sono molto comode. Ho trovato anche queste due belle statue. La statue a cuore se non sbaglio l'ho trovata con voi. Comunque ragazzi ho fatto tanto tanto farming off camera. Come potete vedere ho farmato tantissime stelle perché ci serviranno per una marea di cose. Poi ve lo mostrerò. Ho trovato due golden bunny. Uno dopo l'altro. Sono spawnati uno qui e uno qui. Ve lo giuro. Poi ho trovato una marea di strange plant. Non ho mai trovato così tante strange plant in un pezzo di mondo così piccolo tra virgolette. Vabbè è enorme il mondo perché è large. Però ragazzi trovare così tante strange plant. Forse sono guarito. Il dio Irmir ha guarito la mia cecità. Non vedo l'ora di darle al Dite Raider. Che così è più figo perché ha il codino. Poi... Ah sì ragazzi ho scoperto nell'editing che la thorium anvil si crafta con una led anvil e del thorium ore. Perché ragazzi guardate la mia furbizia. Allora dove la guida? Oh mio dio. Eccola qui. Ce l'avevo davanti. What the fuck? Ok ritirò quello che ho detto. Non sono guarito. Lasciate perdere. Comunque. E come potete vedere. Guardate questa è la thorium anvil. E io non l'ho vista. Cioè è girata al contrario. Non può essere una anvil. Non sembra. E quindi l'ho lasciata perdere. E poi me ne sono accorto nell'editing. Sono andato a guardare. E comunque provvediamo a craftare subito questa thorium anvil. Così ce la leviamo da mezzo. Ah e ce l'ha scritto anche nella descrizione che vale come qualsiasi... Come un anvil normale. Quindi fantastico. Vi starete sicuramente chiedendo cosa sono questi pezzi. Praticamente ce li droppano i mob solitamente di notte. Old Invar Plate, Broken Invar Shield e Melted Invar Sword. Sono praticamente dei pezzi di armi e scudi rotti. Possiamo fonderli e fare queste Invar Bar. Ci serviranno per fare degli attrezzi più potenti. Quindi andiamo subito a fondere queste barre che assolutamente mi interessano. Oddio perché ce ne sono milioni di tipi. Ok wow così tante. Ah sì c'è anche un'armatura però non mi interessa per ora. Ecco qui. Wow così tante barre. Comunque andiamo a vedere cosa possiamo craftare. Oddio. Vabbè siamo già sull'anvil. Va bene anche questa. Allora il piccone ci interessa. Dovrebbe essere più forte. Sì è decisamente più forte. Quindi ci prendiamo questo piccone. Questo lo buttiamo. Un martello. Eccolo qua. Invar Hammer. Cosa ci possiamo? Ah la X. Assolutamente. Dov'è? Ecco qui. E lo buttiamo questo. E poi basta. Non c'è altro. Ah possiamo craftare già dei pezzi di questa armatura da evocatore. Non ho farmato l'armatura da lupo perché non avevo voglia. Ci voleva troppo tempo. Preferivo andare a esplorare il mondo. Non avevo voglia di rimanere fermo a farmare. Comunque questi pezzi li ho trovati andando e venendo per il mondo. Perché ogni tanto spawnava qualche lupo e lo uccidevo. E quindi mi dava queste cose. Ho farmato anche dei vermi già che c'ero. Quindi ho fatto tutto in un'unica spedizione. Ci serviranno per pescare dei pesci che si chiamano varie jetted lardfish. Una roba del genere. Sono verdi. E servono per fare le summoner potion. Quindi saranno molto utili. Comunque. Possiamo craftarci il mana che ci rimane. Io ovviamente vado a caso. Poi quando... Sicuramente ne ho fatto molti di più. Ecco. 8 in più. Mi faccio un applauso da solo. Me ne sono scappate un po' in più. Giusto un po'. Dovrò farmare... Ah ecco una stella. Fantastico. Non ce ne frega niente. Tanto non ci serviranno ora. Ci serviranno più avanti. Quindi posso farmarle tranquillamente. Comunque diamo queste strange plant al die trader. Spero che mi dia dei die abbastanza carini. Reflective gold. Va bene. Glowing mushroom. Ok. Acid. No dai no. Un doppione dopo l'altro no eh. 3 di fila. 3 di fila. Ma non è possibile. Ma sei... Red acid. Va bene. Reflective metal. Oh non ho più strange plant. Vediamo un po'. Cerchiamo di farla carina. Oddio stavo mettendo nel posto sbagliato. Figa. Mi piace. Vediamo un po'. Così verde. No. Non le sta bene a lei il verde. Quindi. Red. No non mi piace. Forse è meglio... Proviamo blu. Va benissimo. Va benissimo. Poi. Cosa ci rimane da fare? Ah non avevo provato questo gold. L'ho proprio dimenticato. Ma è meglio il blu. Decisamente è meglio il blu. Ora fatemi depositare un po' tutto. Vediamo se ho dimenticato qualcosa. Comunque ragazzi ora andremo a esplorare questa cava che sembra essere molto interessante. Come potete vedere ci sono anche delle gemme emerald. E ci serviranno per fare un rampino. Non credo che ce ne siano 15. Ok ragazzi ci siamo. Questa dovrebbe essere la cava. Sì. Comunque ora che posso resammonare gli slime in teoria non dovrei morire. Sapete anche voi che non sarà così. Comunque. Gli emerald erano un po' più in basso. Ammazziamo questo slime. Fantastico. Sì questa cesta però la prendo. Mi interessa. Lì dell'oro ma non ce ne frega niente. Ah ecco mi ha avvelenato lo slime. Me ne sono accorto ora. Allora. Questo emerald lo prendiamo. Spero che ce ne sia abbastanza ma non credo. Andiamo un po'. 7, 8. 12, 13. Cavolo. Per 2 emerald. Avevamo già il rampino. Voglio non dirmi che non fa ad andare più in basso. Vediamo un po'. Ok qua è meglio non rischiare. Non so quanto sia alto. Quindi caliamo la rope. Cavolo. Taggettate. Perfetto. Usiamo il trucco delle torce. Ok niente. Volevo buttare una torcia perché non vedevo proprio questa superficie. Oh ecco un cuore. Fantastico. Eccolo qui. Andiamo un po' qua su. Questa la spacchiamo. 11 silver. Prendiamoci il nostro cuoricino. Abbiamo la vita a 132. Perché? Oh altro emerald. Fantastico. Benissimo. Qua abbiamo anche del tory humor. Comunque dell'altro emerald è davvero una cosa fantastica. Purtroppo adesso non ho un anvil. Altrimenti mi sarei craftato il rampino. Comunque ce lo prendiamo tutto perché si può anche vendere. Ho delle bombe perché non le uso cavolo. Ok fantastico. Vediamo un po'. Cos'è quello? Cos'è? No aspetta. Lasciatelo vivo. Forse sono io che muoio. Uccidetelo. Subito. Qua ci dovrebbe essere una sacca d'aria. Ok. Mio dio cos'è? E poi dove sono gli altri slime? Vabbè giusto. Se io mi trovo in una parete ripita come questa, in dei blocchi smussati, gli slime cominciano a volare perché non riconoscono che io sono in una superficie solida. La stessa identica cosa che succede al Cloudy Pad quando noi vogliamo sopra la platform. Comunque sembra che la cava finisca qua, no? Forse qua in questo lato c'è altro da esplorare, sì per forza, perfetto. Oddio vedo dell'acqua. Non è mai un buon segno dell'acqua perché vuol dire che non si può scendere più in basso. Ah sì ragazzi, prima quando stavo arrivando ho trovato anche delle stelle, delle fallen star. E si trovano abbastanza comunemente in un mondo così enorme. No dai, non è possibile. Non ci credo. Vediamo un po'. Non c'è altro, quindi direi di cambiare zona. Forse scendere qua al lato sinistro. Vediamo un po'. Qua dovrebbe esserci per forza qualcosa. Vediamo un po'. Sì, forse c'è un'altra cava, però porta sotto il deserto. Sì, porta sotto il deserto, è pericoloso. Però, oddio che fastidio questa... Questo mezzo bug che a volte il gioco pensa che abbiamo già saltato, quando siamo in questi blocchi smussati. Questo è da ammazzare, ma ci hanno già pensato loro, questo cos'è? Danger Shard. Vediamo un po'. Holds' anti-magical properties. Quindi, è una roba anti-magica. Distrugge le streghe. Che minerale è questo? Life quartz. Ah sì, con questo possiamo, se non sbaglio, craftare i cristalli cuore, se non erro. Ora, non è che mi ricordi molto bene. Cavolo. Ok. No. Lì abbiamo un mob, quindi illuminiamo. Abbiamo più mob. Questo è da targettare. Ecco, ecco qui. Vedete a cosa serve resummonare? È davvero molto, molto utile. Comunque mi sto abbastanza abituando al summoner. Non l'ho mai fatto, quindi devo avere anche io del tempo. Avevo il presentimento che ci fosse una bellissima trappola. Magari un sasso. Che ci distrugge in un colpo. Qua non abbiamo niente. Continuiamo a scendere. Vediamo un po' qui. No, prima qui. Ok. Infatti, come pensavo. Dai, è una maledizione questa, raga. È una maledizione. Cavolo, cos'è questo? Spero che dobbiamo abbia droppato qualcosa, no? Oddio, era, era basato. Ah sì, invece. No, no, è un pezzo di, di quello lì spappolato. Comunque non è stata un'esplorazione totalmente insensata, perché abbiamo trovato degli emerald. Quindi ora torniamo e ci craftiamo il rampino. Eccolo qui. Fantastico. Ecco il rampino. Finalmente abbiamo un po' più di mobilità. E ho intenzione di esplorare, di continuare a esplorare qua sotto. Oddio, c'è dell'acqua. Speriamo che ci sia una via, ma sembra esserci qualcosa qua a destra. Comunque, dovrebbe esserci qualcosa. Ok ragazzi, siamo arrivati. Questo pezzo, se non sbaglio, l'avevo già esplorato. Speriamo che ci sia una cava qua, a destra o a sinistra. Altrimenti... Per fortuna il rampino, raga. Madonna. Questo è un pezzo pieno di trappole, quindi stiamo attenti a non farci fregare. Comunque... Wow. Forse qua, a sinistra, dobbiamo controllare se c'è qualcosa. No. Però abbiamo del materiale per fare i cuori. E ce lo prendiamo. Come si illumina, che bello. Sì, qua abbiamo qualcosa. Oddio, è fantastico avere la mobilità del rampino. Vediamo un po'. Sì, abbiamo un'altra... Un'altra cava. Non andiamo troppo... Cattivi, perché altrimenti... Possono spawnare dei mob e ci prendono di sorpresa. Ecco qui. Ok, perfetto. Illuminiamo. Infatti qua abbiamo un'altra cava, sembra. Oddio, 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 oddio. Cos'è questo? Cos'è questo? Perché mi fa così tanto... Miniatur Skeletron? No, no, no. Questo è velocissimo. Distruggetelo. Uh, che fortuna. Come pensavo, non c'è niente. Sto finendo le bombe, non è una buona cosa. Spacchiamo qui, perché prima ho visto un'entrata verso il basso. Eccola qui. Mi sa che qua c'è una delle bombe appiccicose per fare prima. Ecco qui. Ok. Spero che ci porti da qualche parte. Sarebbe davvero fighissimo trovare un altro cuore. Molto bello sarebbe. Cavolo. Sì, in effetti la cava continua qui. Non era... Sì, era finita. Però questo è un altro pezzo. Oddio, non mi piace gironzolare senza avere le torce in mano. Almeno qui, al contrario di Minecraft, possiamo effettivamente fare luce quando... Quando teniamo la torce in mano. Prendiamo questo Torium War. L'avevo preso prima? Forse no. Comunque non fa niente. Tanto abbiamo tantissimo tempo. Quella era una pressure plate. Per fortuna ho il vizio di togliere le trappole. Ecco qui, questa è una lampeggia radice. Dammi i semi. No, non mi li ha dati? Non mi ha dati i semi, che palle. Oddio. Ok, questa sembra una trappola. Fantastico. E tra un po' ci muoio. Io lo so, ragazzi, che tra un po' ci muoio, eh. Fatemi gli applausi perché cadere due volte nella stessa trappola è molto. Come si può cadere due volte nella stessa trappola, raga? Come si può? Ok, ragazzi, siamo tornati qui. Dove è la trappola? Non la vedo più. Oh, eccola. È da disattivare. Che fail che ho fatto prima, raga. Che fail. Comunque, andiamo più in qua. Mi aspetto altre trappole. Oddio, questo è uno slime. È morto? È morto, sì. Ok. Sembra che non ci sia niente qui, quindi... Andiamo... Di qua. Cavolo, 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 cavolo. Ok. Un ragno. Ok, i miei slimy stanno facendo un ottimo lavoro. Ecco qui. Cos'è che mi ha beccato? Cos'è? Cos'è? No, no, no. Pure gli invisibili ci sono. Non è pa... Non è possibile. C'è pure la gente invisibile. Ma perché? Allora. Fantastico. Ok. Vediamo un po'. Qua abbiamo una cava con... C'è anche del diamante, forse? Però non lo scavo ora. Voglio trovare assolutamente... Uh, ecco un cuore. Qua abbiamo una trappola, che la disattiviamo. Ed ecco un altro cuore. Fantastico. Ok. Con questi life quartz probabilmente faremo un altro cuore. Oh, ecco un altro cuore di là. Fantastico. Oh, ecco un altro cuore. Oh, ecco un altro cuore. Oh, ecco un altro cuore. Ehm, vabbè. Cos'è questo? Colossal. Quindi è enorme. Ma che schifo, è bruttissimo. Uccidetelo. Mio Dio, che schifo. Ok, non posso più evocare. Perfetto. Non mi ha droppato neanche del mana. Ok, qua niente. Vediamo qua sotto. Non credo che ci sia altro. Anzi, sì. Ecco qui del... Mori tu. Ok, è andato giù. Life quartz. Importantissimo. Poi vediamo un attimo come... Come si crafta. Oddio. Se non avessi il rampino. Cosa farei senza rampino? Ecco qui altri cuori. Fantastico. Uno. Se non sbaglio ce n'era uno anche dall'altra parte. Qua abbiamo della lava. Oh mio Dio, quanto siamo scesi in basso. E un altro life crystal. Abbiamo la vita a 200. Non voglio morire ora. Oddio, questo è da uccidere. Ok ragazzi, ora che abbiamo la vita a 200 siamo più o meno sicuri. Quindi eviteremo anche molte volte di morire. Qua abbiamo un'altra zona che penso che esploreremo nel prossimo episodio. Perché altrimenti questo episodio si fa davvero troppo lungo. Una moneta d'oro. Fantastico. Quindi torniamo a casa. Vediamo se si può craftare qualche altro life crystal. Andiamo un attimo dalla guida e chiediamole se possiamo effettivamente craftare dei life crystal. Sì. Ce ne vogliono 12. No, 10. Oddio, stavo leggendo qua, non so perché. Comunque ce ne vogliono 10 presso una anvil. Ok, fantastico. Eccolo qui. Un altro cuore. Vita a 230. Perfetto. Nel prossimo episodio, oltre a battere il boss. Vabbè, a parte che avremo l'armatura da wolf, da lupo. Credo che pescheremo un po' quei pesci che mi servono. Esploreremo anche un po' la giungla e anche quella zona lì. Comunque vedremo anche il da farsi. Comunque ragazzi, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se è stato così, lasciate un like e commentate. Da Gmete è tutto. Ci vediamo al prossimo video. E ciao a tutti. Iscriviti al nostro canale.